Gli anziani sono considerati troppo vecchi e costosi per ricevere le cure più avanzate da cui trarrebbero i maggiori benefici e per essere inclusi negli studi clinici per la sperimentazione di farmaci di cui sono i primi a fare uso. Un paradosso frutto di uno stigma grave e inaccettabile sulla base dell'età che si riflette anche sulla percezione negativa del proprio invecchiamento, inducendo la stessa persona anziana a rinunciare all'aderenza le terapie, screening e comportamenti preventivi con gravi effetti sulla salute. L'ageismo in ambito sanitario è un problema purtroppo vissuto concretamente da molte persone anziane nel nostro paese. Significa essere discriminati per la loro età nell'erogazione delle cure, significa sottovalutazione di quei tanti sintomi che interessano molte persone con patologie croniche. L'Italia, il paese che invecchia più rapidamente in Europa, dovrebbe essere all'avanguardia nel contrastare questo fenomeno, invece purtroppo rischiamo di essere ancora una volta un fanalino di coda. Dopo l'appello degli scienziati italiani per la crisi del servizio sanitario pubblico sottofinanziato, i geriatri lanciano l'allarme sui bisogni di salute, soprattutto dei grandi anziani, su cui il sistema sanitario non investe abbastanza risorse. In questo contesto nasce la Carta di Firenze, il primo manifesto mondiale contro questo fenomeno messo a nudo e rafforzato anche dalla pandemia, che è stato presentato in occasione del congresso organizzato dalla Fondazione Menarini con il patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, che vede riuniti a Firenze oggi e domani i presidenti delle maggior società geriatriche del mondo, insieme a esponenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite, esperti di etica e rappresentanti delle associazioni di pazienti.